Barre Faeli si confessa, ecco perché faccio la modella frizzante e originale Barre Faeli, oltre che bellissima. . E lo è ancora di più da quando è in attesa del secondo figlio, la 32enne israeliana si confessa in un'intervista e svela tutti i suoi fan perché ha deciso di vestire i panni di modella. . Barre Faeli voleva fare la modella, ecco perché. Una risposta forse inaspettata quella di Barre Faeli, che ha deciso di confessare una grande verità sul motivo per cui ha deciso, anni fa, di intraprendere la carriera di modella. . Volete sapere il perché, dunque? Ecco che cosa ha detto la splendida israeliana durante un'intervista, faccio la modella per non essere mai me stessa. . Un'affermazione molto forte, questa, che però, se analizzata, forse potrebbe stupirci un po' meno, ed ecco perché. Barre Faeli, innanzitutto, è una ragazza di origine israeliana, notata in giovanissima età da un'agenzia pubblicitaria. . A 14 anni, dunque, ha cominciato a sfilare sotto i riflettori, trasformandosi ogni giorno in qualcuno di diverso, una grande avventura vista dagli occhi di un'adolescente, pronta a viaggiare e a vivere nuove esperienze in giro per il mondo. Forse, in parte, cercando di dimenticare alcuni aspetti propri della sua terra d'origine. . Un esempio? La leva militare obbligatoria sia per gli uomini che per le donne, a cui ha deciso di rinunciare e per cui è stata talvolta criticata a causa di alcune esternazioni a riguardo. Barre è bellissima, e attira magneticamente gli sguardi su di sé, inutile dire che la sua carriera raggiunge presto orizzonti stellari, in un mondo dove ha conosciuto alcuni grandi amori della sua vita. . I suoi fan, in effetti, non possono dimenticare la sua liaison con uno dei divi di Hollywood più amati dei nostri giorni, Leonardo Di Caprio, con cui, però, non è riuscita a festeggiare il lieto epilogo che, forse, entrambi si immaginavano. . Ma niente paura, perché lei, poliedrica e frizzante, ha da sempre una grande capacità di reinventarsi, di cambiare, un dono, probabilmente, che le ha regalato il mondo della moda, dove in pochi minuti è necessario togliere un abito e vestire panni nuovi. . E non solo quelli fatti di stoffa. Dopo soltanto un anno dalla fine della relazione con l'attore americano, arriva un nuovo amore, quello di Adi e Zza, che le porterà, nel giro di pochissimo tempo, una gioia grandissima. Anzi, quasi due ormai. . Barrefa Eli aspetta in secondo figlio, la cicogna sta per arrivare. . A sette mesi dalla nascita della sua primogenita, Liv, Barrefa Eli ha dato un nuovo lieto annuncio sul suo profilo di Instagram, ecco il pancino numero due, arrivato davvero prestissimo rispetto alla precedente gravidanza. Barre appare felicissima e continua a documentare passo passo lo splendido pancione, tra uno scatto in un abito elegante e sensuale e un altro in riva al mare, di profilo, in modo che la sua curva più dolce sia ben in evidenza. . Non mancano, poi, i teneri messaggi scambiati con il marito, con cui ha da poco celebrato i due anni di matrimonio. Forse Barrefa ha fatto la modella per non essere mai se stessa. . Ma dalla felicità dimostrata sul web, possiamo pensare che, come mamma e moglie, stia davvero vestendo i panni che più desiderava. . . .